Un malore sarebbe stata questa la causa della morte di Tommaso Fioravanti, il marittimo di 60 anni originario di Martinsicuro, che era imbarcato sulla lampara brivido della flotta sanbenedettese. È stata effettuata ieri l'autopsia dal medico legale, il dottor Francesco Brandimarte, presso l'obitorio dell'ospedale di San Benedetto. Presente anche il personale della Capitaneria di Porto e i rappresentanti legali del comandante dell'armatore, entrambi indagati, un atto dovuto per consentire l'approfondimento di quanto avvenuto. A questo punto, infatti, c'è da fare chiarezza sulle cause dell'incidente avvenuto poco prima dell'alba e che ha provocato l'inabissamento della barca. Ad occuparsi dell'inchiesta è la procura di Teramo. Il comando della Capitaneria di Porto di San Benedetto sta completando gli accertamenti per stabilire la dinamica della tragedia. La brivido si trovava a 30 miglia dalla costa di Roseto degli Abruzzi. Sembra che il battellino a bordo del quale si trovavano Tommaso Fioravanti e Andrea Coccia si è andato a fondo in pochi attimi dopo essere sbandato su un fianco e aver imbarcato acqua. Una situazione di allarme in cui si sono trovati due marittimi esperti che hanno tentato, stando a quanto trapela, di raggiungere a nuoto il peschereccio, ma Tommaso non ce l'ha fatta ed è stato recuperato privo di vita dall'equipaggio. A nulla sono valse le manovre di rianimazione. La salma è stata portata in obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria e dopo l'autopsia eseguita ieri è stata restituita ai familiari per i funerali che saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di Martinsicuro.